è morto mickey lauda a dir la verità è morto ieri ma io il video o il tempo di farlo oggi tanto non è che può scappare già raggiunto la pace eterna e poi già ne hanno parlato in molti soprattutto in youtube quindi io il video lo faccio oggi è morto un grande della formula 1 è morto un altro pilota che ha fatto storia soprattutto che ha vinto molti campionati di formula 1 e non solo di formula 1 quindi abbiamo perso anni fa fanchio poi il ton senna poi non si sa che fine ha fatto se stia bene se stia male schumacher che io ho fatto un video anni fa di quando ha avuto l'incidente di e adesso è morto mickey lauda mickey lauda che dopo aver avuto quell'incidente ha continuato a correre ha avuto il coraggio di continuare a correre e poi ha anche fondato una compagnia aerea ha fondato delle compagnie e adesso ai 70 anni è morto oggigiorno morire 70 anni non è come morire 70 anni di quando io ero giovane o bambino perché oggigiorno 70 anni non sono morti ma c'è un proverbio inglese che dice who live fast dai fast cioè che muo chi vive di fretta muore di fretta chi vive veloce muore veloce lui sempre formula 1 a correre forse ha accelerato i tempi io lento come sono spero di vivere cent'anni fino a cent'anni perlomeno o campare più di cent'anni ma che dire io vi voglio dedicare questo video perché veramente è stato un grande della formula 1 quindi che dire prestiamo questo maggio all'uomo che ha stravolto che ha cambiato che ha rivoluzionato le corse d'automobili perché già dopo di lui non sarà più lo stesso io non so perché dicano così ci molte persone grandi dopo di lui il mondo del cinema non sarà più lo stesso dopo di lui la letteratura non sarà più la stessa dopo di lui la scultura lo spettacolo non sarà più lo stesso dopo di lui il mondo della politica non sarà più lo stesso e allora mi sembra giusto dire che dopo di lui il mondo della formula 1 e delle corse d'automobili non sarà più lo stesso perché come era prima di lui come era con lui e come sarà dopo di lui e che ne so veramente non ne ho idea come dovrebbe essere come sarebbe come potrebbe essere però si dice così allora in questo video ho voluto rendere il mio personale tributo non l'ho fatto ieri che quando è deceduto perché non avevo tempo e poi da una settimana che non vengo facendo video quindi ho voluto approfittare a farli oggi perché dopo farò un altro video vi faccio corti ormai monotematici invece di parlare tutto in un video faccio tanti video così ognuno cerca e trova i video che gli interessano invece di doversi guardare tutti i miei video dopo parlerò delle elezioni europee allora vi lascio grazie di seguirmi arrivederci in pace e riposti michi lauda larga vita a michi lauda michi lauda è morto ciao ciao